Ciao, io sono Giannion5 e oggi siamo su Bonsie Ball Allora, in questo episodio vi dovrei mostrare questo livello Adesso vi ripeto, io l'ho già fatto e sono passato a 14 Sembrava impossibile ma ce l'ho fatta, l'ho completato Però voglio farvelo vedere perché Voglio arrivare almeno a quel punto là e farvi vedere come si fa Poi se sbaglio, il livello l'ho già fatto quindi non c'è problema Anche perché non mi farebbe passare al prossimo livello se non faccio questo Quindi, allora Ok, ok Sono appena riuscito a finirlo Attivo questo Lo porto qua, adesso che sono qua, in questo punto Praticamente devo togliere i blocchi trasparenti e tirare giù questo Poi, quando sono qua vicino Devo praticamente tuffarmi sotto e beccare quello centrale E poi beccare quello a sinistra e poi quello a destra In ordine, in quest'ordine Adesso non so se riesco a replicare Infatti non ce l'ho fatta Ma avete capito come si fa Quindi Direi che Vediamo se riesco a ritornare lì No, non ci riesco E comunque l'ho fatto Bastava tirare su quelli in quell'ordine lì E poi dopo Passavi sotto e andavi a prendere la stella che sta qua sotto Se non ve lo faccio vedere perché non voglio farvi perdere tempo Però l'ho fatto Poi dopo se mi dite che in un prossimo episodio vorreste vedere Questo livello completato Ci riproverò e lo rifarò Però è per non farvi perdere tempo Sono arrivato qua adesso Allora qua dobbiamo stare un po' lontani E attivare il power up Lontani Power up Eh vabbè Devo passare sotto praticamente Solo che è difficile Già è difficile usare questi power up Perché questi qua Sono complicati Da utilizzare Ok Fatto Ok Comunque il livello precedente l'ho fatto Quindi non Anche se non ve lo faccio vedere Cioè Questo qua Cioè avete capito come si fa questo livello Solo che per Riuscirci Allora Tira su questo Tira giù questo E poi Partiamo adesso Così così Ecco fatto Ok l'ho fatto E Praticamente l'ho attivati L'ho portati su Così adesso il blocco Buco nero Può passare E quando lui passa di qua Io devo Tirare giù questo In modo che lui rimanga bloccato E mi attivi sempre La stella E poi Praticamente Vado Vado su Tiro su questo E Vado giù Fatto Almeno vi ho mostrato che Sono riuscito a fare il livello Allora Passiamo avanti Allora 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 Sì ma Devo Devo Beccare Tutte le correnti Devo Ok Te l'ho fatta Ora devo passare Quando il laser Non è attivo Cioè che è bloccato Fatto Fatto Oh È stato Impegnativo Però Però se l'ho fatta Praticamente subito Qua Quella Devo fare Devo Stoppare il laser Ok Ok Allora 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 Questo livello Praticamente Dobbiamo andare Qua sopra E togliere E togliere i blocchi Laser E io E io Devo spostarlo Così Ecco Tac E il blocco Rosso Rimbalzerà Lì sotto Io poi Rattivo la corrente Ok E vado E vado qua sopra Quando il laser Non c'è Io devo Praticamente Saltare E andare A atterrare Qua in basso Adesso Non posso Indicarlo Con la freccia Però Lì in basso Dove c'è Vicino Alle stelle Allora Ecco Qua Praticamente E adesso Quando il laser Non c'è Io devo Praticamente Saltare La dentro Però In ritardo Perché Poi si devono Si devono Riattivare Le stelle Ecco Infatti Non ce l'ho fatta Devo Devo farlo In ritardo Però Avete capito Com'è il livello Ok Disattiva Riattiva E andiamo Qua sopra Fatto Oh Pensavo di non riuscirci Che livello è questo? È il livello 17 Corrente Vabbè Quanti Las Devo andare Giù sotto Devo E se Restoppo Allora Praticamente Questo livello Non ho capito Come Si Possa Completare Perché È impossibile Raggiungere Quella stella Che sta lì Al centro Se io Attivo La corrente Diventa Così E io Praticamente Mi posso Fare Un giro Andavano Da sotto E Faccio Così Poi Prendo Questo Qua E muoio Vabbè Comunque Mi sembra impossibile Raggiungere Quella stella Quindi Sarete Sarete voi A dirmi Come fare Questo livello Perché io Non l'ho capito Non ho minimamente Capito Come si fa Questo livello Io Arrivo Praticamente Qua Con il Power Up Del Trapasso L'ho Chiamato Così Power Up Del Trapasso Ma voi Chiamatelo Come Volete E Praticamente Io Devo Prendere La stella Ma Sta Qua Sotto Io Come Faccio A Passare Il Power Up Del Trapasso Praticamente Mi fa Passare Da Una Parete All'altra Però Non mi Fa Andare Verso Il Basso Quindi Come Faccio A Prendere Questa Stella Quindi Ditemelo Voi Perché Io Non Lo So Io Posso Andare Qua Non Posso Andarci Di Qua Di Qua Rimango Bloccato E Come Faccio A Prendere Quella Stella Che Sta Lì In Mezzo Non Lo So Non Ho Minamente Idea Di Come Prendere Quella Stella Anche Perché La Corrente Devo Di Sicuro Attivarla E Quindi Appaiono Tutti Questi Laser Blu E Rossi Se Io Vi Faccio Vedere Il 17 In Hard E Tutti Rossi Sono E Rossi Sapete Che Non Si Possono Toccare Perché Se Li Tocchi Muori Quindi Come Come Si Fa Come Possibile Fare Questo Livello Ditemelo Voi Perché Io Non Lo So Io Questo Livello Non Ho Capito E Se Voi Avete Una Minima Idea Di Come Si Posso Fare Fatemelo Sapere Perché Non Lo So Non So Come Si Fa Minimamente Ci Ho Provato Off Camera Però E Poi Abbiamo Soprato Di 10 Minuti Quindi Devo Staccare Perché Sennò Il Video Dura Troppo E Dopotroppo Non Lo Guardate E È Un Casino Poi Se Volete Video Più Lunghi Che Faccio Su Questa Serie Fatemelo Sapere Io Ve Posso Guardare Anche Più Lunghi Episodio Ovviamente Però Mi Blocco In Questi Livelli Quindi Non So Come Fare Non So Come Fare Non Attivo La Corrente Se Non Attiva Corrente Comunque Là Non Ci Posso Andare E Per La Stella Non Attiva Quindi Ho Per Forza Attivare La Corrente Boh Non Lo So Un Altro Livello In Ci Siamo Bloccati Perché Ce l'avevamo Bloccati A Livello 13 Questo Qua Però Il 17 Mi Sembra Molto Più Difficile Non Capisco Come Farlo La Difficoltà Sta nel Capire Come Fare I Livelli Non Fare I Livelli Perché È Diverso Quindi Se Avete Una Minima Idea Fatemelo Sapere Anzi Ve lo Faccio Rivedere Ve lo Faccio Rivedere Ecco Il Non Lo So Non So Come Prenderlo Io Cianamente Ho Provato Di Tutto E Quella Stella È Imprendibile E Ci Sono I At Live Da Fare Quindi Se Non Facciamo Questo Livello Non Sblocchiamo Il Prossimo E Se Non Sblocchiamo Il Prossimo La Serie Come Fa Continuale Chi Lo Sa Quindi Dovete Dirmi Voi Come Si Fa Il Livello Va Bene Spero Che Questo Episodio Vi Sia Piaciuto Io Vi Invito A Un Like Un Commento Per Darmi La Vostra Opinione Iscrivetevi Al Canale Se Nuovi Condividetelo Per Tare Can Crescere E Noi Ci Vediamo Nel Prossimo Video A Presto